ma infatti ti dicevo nicola c'è qui in lombardia c'è diciamo abbiamo le università abbiamo le maestranze ma appunto il polo del cinema sembra appunto essere roma oggi voglio intervistare te voglio sentire quello che hai da dire tu perché sei appunto uno che si è ritagliato un diciamo una carriera in questo ambito pur non vivendo a roma mi stai dicendo chi te l'ha fatto fare sì sì allora dire attore è un qualche cosa di riduttivo ormai perché essere attori oggi secondo me soprattutto se non sei nel jet set no di italiano in questo caso è un po riduttivo nel senso che io poi mi occupo di comunicazione di insegnamento quindi tutta la parte didattica mi occupo anche per esempio faccio determinati lavori con delle aziende per quanto riguarda sempre il lato comunicativo e magari vado su su quello che sono le mie competenze quindi l'utilizzo del linguaggio paraverbale non verbale unito poi chiaramente a quello che è il verbale che però rappresenta sempre diciamo il lavoro minore ecco tra queste cose che mi danno da vivere poi c'è il simpatico hobby della recitazione ma anche il nicola nicola bracchi da bambino aveva questa passione si guardava gli altri il mondo era molto timido e quindi studiava studiava le varie realtà e le dinamiche che c'erano all'interno di di un dialogo studiava i grandi studiava quelli che erano della sua età cercava però di stare sempre in disparte era un osservatore poi questa cosa è arrivata sicuramente dalle elementari perché non siamo mai noi poi che tiriamo fuori quelle che sono le nostre doti i doni che abbiamo ma è sempre qualcun altro ieri ero un corso di comunicazione e un collega mette un adesso non ricordo il nome però era un video su youtube per quanto riguarda il 2014 il tizio in america che ha vinto il mondiale del public speaking e diceva appunto questa frase tu hai qualcosa non so che cosa mai qualcosa dentro e anche aveva proprio questo risultato questa reazione dal pubblico rideva perché lui con costantemente nella sua sceneggiatura nel suo discorso metteva dentro continuamente questa frase che destabilizzava però è vero grazie agli altri ha capito di essere un ottimo oratore era uno che diceva e guarda caso non è tanto lontano da quello che diceva era uno che andava mediamente bene ma nemmeno troppo bene a scuola cioè galleggiava è stato bocciato un anno a se poi è superiore alle medie alle superiori che alle superiori quell'anno di ribelle cioè ha fatto liceo fatto il liceo classico io stiamo parlando come se fosse lui ma adesso sono io ho fatto il liceo classico l'arnaldo per metà anno una crisi pazzesca e poi cosa ho fatto era quello era la mia strada era la mia strada ho incontrato forse un insegnante che poteva darmi tanto ma in quel momento non ero non ero pronto ero troppo chiuso non ero pronto e quindi poi dove sono approdato come i grandi adesso io non mi paragono a come tutti i grandi del novecento cosa ho fatto ragioneria 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 cavolo che scasola me la ricordavo della ragioneria topato al massimo ma anche quello in realtà ed è ed è stupendo come veramente a volte andiamo a cercare gli opposti perché cerchiamo di rinnegare no quella cosa che mi ha fatto mi sta facendo soffrire ancora a volte questa la decisione o no forse il lasciarsi andare a questo a questa passione questo amore che è richiede tanto ti richiede tanto ti brucia tutto il giorno quanto cambia il fatto di nascere in una realtà magari industriale come quella del nord italia invece magari immagino il nicola che nasce a cento celle e magari ha più un vantaggio nel entrare degli studi nel entrare in quella dinamica lì ma invece di andare al centro commerciale proviamo a fare un giro a cine città famola comparsa si è vero quindi magari c'entra anche questa questa mentalità magari no guarda sì la mentalità industriale contadina del bresciano anche fa sì che tu non ti possa sentire al cento per cento bene nell'essere un nel fare il lavoro perché è un vero e proprio lavoro poi è cioè io adesso una volta poi poi parleremo del lavoro che facevo prima perché io lavoravo davvero è però poi ho capito tante cose ti dicevo per esempio mentre eravamo fuori onda che ieri sono arrivato stanco qui però io vedevo la mia ragazza distrutta dalle otto ore di lavoro con il magone mentre quando chiede a me come è andata e magari sono stato via tutto il giorno dalle sette e mezza del mattino fino alle ventidue ventidue trenta percorsi vari scuole eccetera e io dico davvero bene è andata bene sono stanchissimo ho parlato tutto il giorno ho fatto il cretino tutto il giorno mi sono mosso ho fatto però è andata bene sì sì questo per dire cosa per dire che è stato difficile però se vuoi ti puoi ritagliare una uno spazio devi essere in grado di essere multitasking è come tutti gli altri lavori adattarsi diciamo sì è quello che con la voce noi attori no con la voce con il corpo con chiamiamo modulazione adattarsi ad ogni tipo di comunicazione ogni tipo di persona ogni tipo di evento di eventualità tutto qua ok hai sentito come quando hai detto ah ma siamo bresciani siamo modulato la voce in modo tale da non sembrare bresciano la famosa edizione ricordiamo ecco nicola si offre anche corsi di edizione di public speaking io ho sempre pensato che il bresciano adattandomi anche ascoltando vari accenti italiani che il bresciano sia una persona molto capace di media ma che magari nel confronto con il fiorentino il livornese il romano si trovi in difficoltà appunto nella dialettica nel banalmente nel parlare adesso c'è stato un ragazzo a sanremo il tiktoker quello famoso bresciano e ricordo alcuni commenti su su instagram di magari gente che non ha mai ascoltato l'accento bresciano che diceva ma austriaco e no a londra un amico parlava in in inglese tra l'altro molto bravo ma con un po di accento bresciano e gli chiedevano se era portoghese no hai visto quel video di quel quel veneto c'è questo qui veneto che parla con parte parla in veneto e va tipo a dublino va a rechiavic va a oslo e parla in veneto con i commercianti e questi tanti lo capiscono ma sai perché perché noi italiani siamo un popolo di commercianti e soprattutto di navigatori di viaggiatori esatto esatto e quindi sappiamo inconsciamente che quello che riguarda il linguaggio non verbale vale molto di più e sempre valso molto di più di qualsiasi parola esatto d'ugulo le lingue pensa per esempio come mai gli italiani hanno sempre questo modo di gesticolare è il meme ma non il meme come i memi non sono quelli che noi pensiamo siano al giorno d'oggi cioè quelle cazzatine che si vedono quei quei ritagli di gif o gif che ma in realtà come diceva il grande kojima ok attraverso metal gear solid doveva citarmi kojima è stato per assurdo è videogioco quello che ha cambiato completamente si pensa che kojima in metal gear solid 2 che è stato odiato ha dato il via a quella che l'era del post modernismo un video il primo è diciamo una delle prime opere post moderniste adesso non ricordo il 2002 sai di cosa parlava quel videogioco delle intelligenze artificiali che avrebbero preso il comando del mondo hai visto quello che è uscito qualche giorno fa una settimana fa sì sì che l'ho visto dai dai io sono io sono filmmaker ve lo devo dire e sono fottutamente spaventato di questa sora questa programma di intelligenza artificiale che sembra effettivamente riprodurre i video devi diventare scrittore devo diventare scrittore ma anche lì c'è c'è gpt quindi fa tutto lei fa tutto lui fa tutto lui ormai viviamo penso che andiamo sempre più verso lì va beh ovviamente l'avrei visto ma guarda sicuramente ma è sempre la solita storia cioè non possiamo fermare la tecnologia ok però ho il progresso ma grazie alle radici grazie ad un centramento diciamo del nostro essere possiamo riuscire a capire che dobbiamo essere noi a controllare la situazione se infatti vedi tutti coloro che poi riescono a non lo so faccio un esempio a ad avere potere o comunque in qualche maniera a quello che noi pensiamo nella nostra era diventare famosi no in realtà non è vero perché quelli bravi non diventano famosi stanno nell'ombra e fanno soldi però basta solo essere pronti al cambiamento e adattarci modularci quindi posso pensa a questo vedevo vedevo uno youtuber e ragionavo dice cavoli ha ragione pensa che tutti gli effetti visivi nel cinema verranno ridicolizzati e verranno sempre di più quindi cosa fa la differenza scrivere storie scrivere storie quello rimane una cosa che diciamo ancora fa fatica il l'intelligenza artificiale a creare nonostante ci siano appunto le strutture no delle storie lo sai no le sì 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 l'arco dell'eroe l'arco dell'eroe i tre atti rimane un elemento di creatività che l'intelligenza artificiale non non riesce a diciamo a inserire ma io pensavo anche banalmente nei film io recentemente ho visto munich di spielberg che adesso sto pensando che sia il suo capolavoro definitivo ah ok cioè ci sono delle carellate delle movimenti di camera che se non ti trovi sul set cioè penso ad esempio tutte quelle che fa nel film dove parte dal riflesso magari sul parabrezza della macchina della persona che sta camminando poi la persona appunto esce dall'inquadratura noi ci muoviamo stiamo dentro la macchina e questo credo che l'intelligenza artificiale farà fatica avere queste idee qui perché se non erro lui ce le ha proprio sul set queste idee qua queste carrellate certo tutti i mestieranti verranno eliminati tutti i mestieranti eliminati ok i tecnicismi staranno a zero perché i tecnicismi sono facilmente riconoscibili quello che dico sempre nella scolastica no ma di qualsiasi lavoro è qualsiasi lavoro certo che serve sapere quelle che sono le teorie metodo attoriale serve saperli tutti perché sono stati dei grandi che hanno studiato il comportamento delle persone per arrivare a un obiettivo ma poi ragazzi devi metterli cioè non puoi noi non posso d'attore andare uso il metodo stanislaschi oppure oh lo strasberg è il metodo migliore no poi se io conosco faccio tutto mio rielaboro riprogrammo e capisco nel secondo che cosa mi serve sai a cosa servono tutti perché il la frase finale di ogni metodo sai qual è tu mi dirai siete attori lasciarsi andare lasciarsi andare cioè tutti i punti ci sono c'è chi ha 25 punti c'è chi ne ha 12 c'è chi tutte cose cervellotiche e vai a trovare l'obiettivo di scena vai a trovare quello il maxi obiettivo quello che è la naturalezza alla fine quello che si alla fine tu cerchi di far uscire senza si tu cerchi di far tacere il tuo cervello dicendo ok io ti ho dato tutte le informazioni possibili sono pronto e poi via devi creare ex novo esatto anche se attenzione poi anche lì vedi ci sono i tecnici scienziati pensa parlavo un giorno con un regista non voglio fare i nomi però nel senso un regista che ha fatto che ha aiutato su un set ha fatto il l'aiuto regia a ettore scola per un film con mastroianni e lemon è conosciuto un posso parlare sempre in ambito di conoscenza però ci siamo subito trovati a un workshop lo aiutavo e siamo diventati diciamo abbiamo stretto comunque un legame non parliamo di amicizia non sono quelli che diciamo sono amico di di questo e quella no però si creano dei legami forti sul lavoro nel senso quando tu ti trovi e lui fece l'aiuto regista di un film di ettore scola e mi ricordo che mi raccontava del metodo completamente diverso tra lemon e mastroianni perché per far capire anche che ognuno una persona diversa e non è detto che quello che dico sia giusto mi fa ridere quando nell'accademia arriva il professore il famosissimo metodo stanis la rochelle guarda non c'è nulla di più quella serie devono tradurla gli americani perché purtroppo non abbiamo così visibilità se riescono a mantenere quella cosa secondo me non è un umorismo che l'americano riesce a decodificare secondo te sì secondo me se lo adattano perché poi vabbè ci hanno colonizzato in ogni modo quindi poi piace piacerà anche a noi che comunque abbiamo l'originale se riescono adattarlo sul su quello che è la parte americana secondo me fanno una cosa ma non perché noi perché noi non crediamo mai in quelle cose soprattutto nella parte della comedy noi italiani infatti quando tu vai da un produttore dici che faccio una commedia sì ok tanto ci vogliono pochi soldi meglio ok del dramma cioè andiamo sempre a snaturare no beh io sono rimasto impresso adesso sai siamo siamo sempre attaccati ai cellulari mi capitano dei reel scene di modern family e ci sono sottotitoli in spagnolo sottotitoli in cinese e quindi questo mi fa capire quella serie è arrivata pure a la casa linga di Shanghai oltre alla parte diciamo visual quella quella anche registica cioè ovvero l'idea registica di base che poi vabbè a volte ci sono delle puntate veramente eccezionali dal punto di vista proprio di regia di però poi hanno ha un imprinting continuo quella camera a mano volutamente e che si muove stile stile docufiction no è bellissimo cioè pensa la solita pappardella la solita la ok la parte della sitcom sitcom di famiglia così ma invece del mappazzo posso dire del mappazzone cesaroni e inquadrature a mezzo busto e a voi si stacca tutto molto è cavoli lì idea geniale lasciando perdere può essere a volte melenza può essere a volte però gli attori che non hanno paura di osare e quindi di diventare grotteschi ma sono più veri di quelli che rimangono bloccati come degli stocca fisso a fare la battutina che è chiamata e rispiegata e rispiegata ancora di da scalica lì pum 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 bellissimo eh sì sì e soprattutto non ci sono toscani sì maledetti no no io invece pensa che pensa che proprio perché sto cercando di collaborare con personalità nell'ambito bresciano bergamasco veronese per cercare di portare anche qui non sono nessuno premetto però mi è capitato di conoscere un po di persone in tutti i modi stiamo cercando di portare capitali per per far fiorire qui in questa zona il la parte diciamo videoludica non chiamiamolo cinema ok parte videoludica nel bresciano che non sia solo la parte ecco è diciamo più più amatoriale o professionale ma arrabattata perché perché servono un sacco di soldi e purtroppo ci si deve ci si deve barcaminare con il cosiddetto film d'autore ma ancora meglio quello sì ecco è i film indipendenti no perché non mi viene in mente perché qui in italia è una cosa è come per dire la 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 merda no ok la merda sì sì perché non hai hai poco budget mentre invece in america un film indipendente è qualche cosa che è ben quotato ben visto ci sono ci sono in america intendo nord america cioè ci sono dei festival che vanno a premiare anzi a fare dello scouting nel cinema indipendente perché se tu spendi poco e fai delle cose grandiose tu sei uno un imprenditore pronto al al grande al grande salto ok e te vogliono mettere alla prova perché se tu poi riesci a farlo anche con film con un budget superiore e allora tu sei destinato a far fare soldi a alle produzioni qui in italia invece il film indipendente cosa fa ma anche in realtà in america tutti i film sono indipendenti dal nostro punto di vista perché perché non chiedono soldi allo stato si autoforaggiano noi invece per essere bravi cioè uno è bravo e quindi è visto come un film bello e giusto e buono buono e giusto cosa buona e giusta se tu chiedi più soldi possibili allo stato ok un'altra un'altra visione del mondo diciamo guarda guardate i titoli di coda e se c'è regione lazio non lo so un supporto della regione trentino noi siamo bravi rubiamo i soldi agli italiani siamo bravi e gli italiani pensano che siamo più bravi invece chi va a creare una struttura di fondi privati no è un cretino però io vorrei fare un passo indietro ma il se ci fosse un momento del nicola bracchi quando si rende conto di essere portato c'è o non c'è tu hai detto una cosa che spilberg è un bravo regista ma sai perché è un bravo regista e quindi ritorniamo al nostro argomento perché non è mai nulla a caso chi è il regista che è rimasto puro ha il bimbo interiore più visibile spilberg se il bambino interiore tant'è vero che negli ultimi che ha fatto secondo me c'è molto c'è molto tecnicismo c'è molta disillusione e quindi lui è sempre bravo a far correre quella camera nelle sue nelle sue visioni nel però anche nell'ultimo quello che è un po è autobiografico se ci badi c'è quella patina dell'anziano che ha questa nostalgia verso un bimbo che fa sempre più fatica a vedere e parlando proprio di bambini il nicola bracchi è stato diciamo è stato stanato il bimbo interiore che non usciva nemmeno quando era piccolino la timidezza ti fa tenere perché devi stare attento insomma non essere picchiato dal mondo è riuscito a stanarlo alle medie ero in prima media una un insegnante che un giorno facevamo questo laboratorio espressivo che è un laboratorio vuol dire tutto e nulla e niente e niente tutti eravamo in 25 tutti tutti i grandi cioè quelli che erano molto in mostra piuttosto che i secchioni che poi non sono secchioni ma sono persone intelligenti che si dedicano allo studio e fanno bene nessuno riusciva a fare questo esercizio ovvero a rallentatore dovevi mettere un quadro alla parete dovevi immaginare di mettere un quadro alla parete senza avere nessun tipo di aiuto no andava la parete a rallentatore cos'è che faceva il tuo compagno di classe c'era sempre qualcosa che tralasciava si arrivava poi magari correvano un po troppo si facevano prendere non prestavano attenzione alla visione di di ciò che erano gli attrezzi immaginari e tutto e alla alle alla causa effetto no di ogni e quindi c'era sempre qualcosa stoppava e doveva dovevamo andare a giro pensa su 25 24 adesso non ricordo io dove ero a che posto ultimo ultimo venticinquesimo guarda caso no mi sono dato la cosa di studiare di vedere di vedere un attimino la situazione e poi arrivo arrivo dagli errori dalle varie cose cerco di imparare dagli errori degli altri piuttosto che da anche da da delle cose positive che sono gli altri e mi metto a fare questa cosa ma io credo sembrava forse un istante infinito ma in realtà era comunque tanto perché io penso di avere di aver avuto gli occhi su di me per almeno quattro minuti in cui ho fatto tutti ma ero tranquillissimo tranquillissimo una cosa e lì lì ho capito un po di cose poi arrivato alla fine di questo laboratorio ho fatto il principe quindi ho fatto il protagonista il piccolo principe no 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 era una storia del cazzo assurdo tra l'altro che quella maestra o la professoressa che ha fatto quel quel corso di laboratorio espressivo adesso tu sei il maestro sì sì è bello perché sì perché poi collabori spesso con con le scuole collaborazione per quanto riguarda la parte attoriale teatrale quello che dicevo all'inizio che questo lavoro è il 90 per cento ti porta a quello che sembra qualcos'altro in realtà è un continuo arricchimento per poi il lavoro che io dico il lavoro vero ovvero quello dell'attore però senza il bagaglio sai no il famoso la famosa valigia dell'attore no sì sì pensa che collaboro con con varie associazioni e vado passo dagli asili ho fatto anche un asilo nido ho fatto una sperimentazione di corso di teatro su un asilo nido è stato favoloso asili scuole elementari medie superiori c'è fatto tutto poi corsi per adulti soprattutto comunicazione molto specifici aziende e pure e dovrò ritornare nelle rsa anche con disabili rsa quindi anziani affetti anche di alzheimer eccetera è molto interessante come come lavoro quando ti chiedono cosa fai delle persone nuove che non conosci nelle famose cene con i parenti cosa cosa succede ma in realtà sì non è difficile no allora l'attore non non puoi dirlo non puoi dire perché rimangono lì e cosa fai cosa fai per lavoro vero no ok no l'attore non lo puoi dire puoi dire che fai l'imprenditore ok è vero che è vero il cinema si sviluppa a roma in italia ok giusto continua no è un cerchio continua sempre arrivare lì fa non so quando è stata fatta cinecittà sono stati fatti gli studi e quindi il cinema si sviluppa lì ma credi che anche a livello di persone i romani più portati non so ci sia un roma roma caputmundi roma caputmundi e se vedi capisci il perché ok capisci il perché napoli attira determinate cose cioè capisci il perché quando vivi napoli giri a napoli capisci il perché riescono ad arrivare in determinati settori roma capisci il perché riescono a gestire determinati settori io sono però per la delocalizzazione roma che comanda determinate che gestisce il comando di determinati di determinati punti nevralgici del cinema per esempio della della parte ne trarrebbe vantaggio ad avere delle ramificazioni molto più costanti io ti 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 io penso a sergio leone che si sposta in maremma per fare gli spaghetti western ok ok pensa alle potenzialità qual è la novità di oggi sono le location pensa a brescia hai in pochissimo spazio tutte le location che vuoi lago montagna montagna grigia e poi le montagne più sul marrone verso le orobiche verso poi hai una bellissima città ovviamente la città bella perché sporca bella perché molto molto nordica ok che però ha questi richiami anche ma anche molto latina in alcuni punti è sì perché io ricordo appunto il mio professore di regia e ha lavorato una volta uno commercial si dice una pubblicità dei prodotti con salmo faceva questa parte dove faceva escobar tu guardando quello con i sound design con un attimino di di chitarra così acustica sembrava di stare a medellin cioè sembrava di stare a in sud america comunque è una città che ci hanno girato ferrari che io però ho boicottato perché un film su un italiano un importante italiano e con la famiglia tutti italiani sei faviniano sono faviniano la pensi come favino cazzo tutti gli attori americani o spagnoli non perché non lo si fa a noi posso posso lanciare una provocazione così magari andiamo a litigare ok no io penso che voglio il film su openheimer recitato da favino guarda non si capisce perché gli americani e qui ti do ragione no adesso si facciano problemi per dare le voci per esempio a un personaggio di colore devono per forza prendere una persona di colore cioè oppure nei cartoni animati oppure per esempio che ne so si fanno mille pippe per no ci deve essere il personaggio messicano fatto però da un messicano perché sennò e poi boh sbarelano gli italiani chi se ne frega non c'è non c'è manco un italiano a pagare l'oro però io dico a parte che secondo me la cosa giusta è siamo polli noi abbiamo delle storie e basterebbe riuscire a portare qui i capitali se non li portiamo qui probabilmente il problema è che non li sappiamo gestire dico io perché perché per esempio man possiamo averlo basta che una produzione riesca a raccogliere determinati soldi certo non riesci perché perché non hai potere e io dico anche perché negli anni ti sei screditato ok perché agli occhi del mondo però al di là di quello vabbè ovviamente non non nego io cioè che le maestranze sono venuti a girare a grescia e maestranze ti pigli il l'operatore lo il macchinista elettricista provocazione a favino in realtà io lo adoro è lo adoro anche solo per la battuta di boris è vera è vera perché bravo cioè non c'è niente da fare però provocazione a quello che ha detto favino e che poi no è quello che dicevi anche tu io dico ok però tu fai un film dove sei un siciliano che vive nel veneto e che parla veneto perché non chiamare un attore che può ricoprire che ha queste caratteristiche in italia e chiamare favino che è romano ma stai parlando di quel film del sottomarino ok ok perché è allora te pigli pure l'americano che fa gli spaghetti ok ciao è vero è vero è vero snufferari in effetti bisognerebbe veramente sentirli che poi fanno questa brutta cosa cioè ci sta in the young pop bello perché c'è la multi cioè ci sono le varie culture ci sono le varie lingue ed è giusto che parlino un po in inglese un po in italiano un po e lì è reale fa ridere invece fanno ridere gli americani che in italia fingono di parlare italia c'è questa sorta di di e poi parliamo del dell'incredulità e del non passare la linea immaginati questo allora gli italiani loro sono italiani parlano in inglese facendo finta che sia italiano giusto non te lo sei mai chiesto e poi ogni tanto ci mettono il dialetto delle frasi se lo vedi in lingua originale in italiano ah ok e tu dici ma è qualcosa che va a proprio a caracollare a implodere non a esplodere è come la torre di sauron quando cade l'occhio che poi hai presente invece di esplodere implode però ecco la provocazione è vero capisco perché chiamino favino perché già fanno pochi soldi se non chiamano un attore di grido chiaramente non non possono togliendo il fatto che è uno tra i più bravi quindi è giusto che lavori però però è una provocazione magari non so magari questo podcast potrà arrivare e ci sarà una risposta ti salutiamo eh Pierfrancesco ti amo magari assolutamente mi sono accorto quando ho fatto il casting director per per un regista per un amico che tra l'altro poi so che prima del covid doveva fare una serie che probabilmente va su amazon poi è arrivato il covid pensavo non ci fosse basta fosse e invece adesso so che nell'ultimo periodo si sta riattivando perché è ripartita e sono molto contento perché è un'idea geniale io lì ho fatto il casting director insieme e in più anche la spalla no davo le battute perché giustamente lui diceva non voglio darle io o darle come fanno in tanti nel voglio che gli attori parlino con un altro attore in maniera tale che vedo già il lo sai quello che ti ho detto mi ha chiesto poi magari mi ha chiesto dai leggici qualcosa o prepara qualcosa e noi non siamo siamo umani lo dico registi perché lui è anche regista vi dico siamo umani e vogliamo parlare delle accademie che non vi fanno proprio vi fanno vedere o quanto è bella la fotografia o mi dire o non mi parlare la colorist o tutto quello che riguarda ogni singola ogni singolo frame di ogni singolo film e poi dimenticate uno degli ingredienti principali agli attori la parte emotiva sì ma tanto c'è c'è il montaggio posso chiamare anche un albero che poi il montaggio fa tutto che è vero perché sai quanti attoricani che in realtà non sono attori ma poi c'è la bravura del del regista alla fine ricordo sovente diverse polemiche ah ma questo il messaggio di questo sono andato a vedere questo film malatissimo quello di l'antimos povere creature un film malatissimo e vabbè tutto questo per ah poi discutevano al messaggio ah questo c'è il messaggio c'è il messaggio però dicono che il barbie è riuscito il barbie è riuscito a me è venuta in mente la perché io guardandolo non ho non ho pensato ecco il messaggio mi sono diciamo goduto questa questa follia e allora ho pensato la frase di di lynch quella che dice se volevo mandare un messaggio chiamavo la segretaria telefonica ecco pensato quella frase lì quindi tu in questo senso come come ti poni cioè quanto è politica secondo te il cinema e quanto i politici sono cinema basti pensare agli oscar tu sai benissimo che gli oscar sono un evento politico ok un messaggio che che la che la comunità vuole dare che la comunità inteso che hollywood vuole dare al mondo no di progresso di in realtà spesso risulta stucchevole perché non non vengono premiati determinati film penso solo allo scandalo la land per me può piacere o non piacere ma quello se tu dai così tante statuette il miglior film cos'è è la miglior produzione la migliore il miglior tutto non c'è solo la parte artistica ma c'è la parte tecnica è tutto condensato e molti non riescono a vedere questa cosa un film che prende non prende nessun oscar un oscar contro uno che ne prende sei non può prendere il miglior film è logico è logica perché il miglior film è qualche cosa che va a riassumere tutti i premi ok ok e vedi invece che ogni ogni anno c'è il messaggio politico della di quelle che sono le varie fazioni piuttosto che le comunità all'interno del dell'academy dell'academy ok sì sì non voglio discutere sul film che ha vinto è nel senso comunque però vedi dimenticabilissimo se tu parli di la la lenda ancora oggi ti ricordi che c'è chi dice il film palloso che però c'è chi invece vede cinema lì all'interno di quel film cioè non sto a discutere delle di chazelle perché per me è immenso tranne in the first man che cancellabile poi chazelle voglio dire forse la la land a livello concettuale è il film più bello poi in realtà whiplash è su un altro pianeta però però ecco detto questo purtroppo noi abbiamo io penso agli artisti hanno questa cosa del messaggio ma in realtà proprio per parlando di povere creature tu vinci quando non vuoi fare il maestrino e punti il dito e ma tu lasci andare racconti un qualche cosa non con l'obiettivo di lanciare il messaggio perché deve essere insito il messaggio principale ok ma è qualche cosa di talmente forte che nonostante la reticenza nel dirlo è come è come uno script una sceneggiatura no la sceneggiatura è fatta di tanti punti ed è fatta di conflitti è la stessa cosa per lo scrittore per lo sceneggiatore deve avere questa cosa questa continua voglia di dirlo ma perché esce a tre quarti perché la matematica della sceneggiatura te lo fa uscire il il punto focale a tre quarti di perché è come un qualcosa che non puoi più trattenere è una pentola pressione ma meno è naturale secondo me più è stocchevole e spesso ormai se tu ci badi gli americani si sono bloccati su questa voglia di mandare il messaggio e stanno facendo stanno perdendo la loro potenza che era l'entertainment allora l'idea mia che il cinema sia anche politica perché nasce per quello nasce per sia per esaltare qualcosa ma poi dall'alba dei tempi per banalmente perché ci piace raccontare storie sì hai ragione ma se tu ci badi ogni volta che uno poi si esprime e emette un pensiero in qualche maniera crea crea un dibattito che solo che io forse parlavo veramente di politichese ok non di politica reale la politica è qualcosa di di immenso è vicino veramente a a quello che è la cosa che più si avvicina forse a dio perché ci porta su un piano differente del del sé ma verso gli altri no verso un dibattito che crei proattività cioè che continui ad alimentarsi con idee differenti cos'è però il politichese invece è semplificativo è agglomerante ed è sempre il me contro te citando una ok un'altra un'altra come si dice pessimo film allora nove no poveri cioè se hanno fatto il loro successo ci sarà un motivo e e appunto la cosa interessante cos'è è che guarda guarda come si collega la domanda cioè a quello che sto dicendo a quello che poi mi hai chiesto all'inizio ovvero i politici secondo te sono no sono dei pessimi attori sono dei pessimi attori ma va bene così sono un po gli attori sono un po gli attori e state attenti alla provocazione gli attori del reality devono essere finti finti veri finti veri dicendo un sacco di stronzate al secondo e non puoi poi avere nel sacco di stronzate che dice al secondo non puoi avere un un fil rouge un e quindi è chiaro che vai a a sparare la cazzata che poi andrai a a negare il secondo successivo ok perché devi rimanere con un ritmo talmente elevato da non poter pensare devi continuamente rimanere in azione questo cosa vuol dire che in questo momento gli artisti stanno facendo qualcosa che non gli compete gli artisti devono provocare devono mandare pensieri e fare politica in quel senso ma non dicendoti a attenzione non è giusto fare così è giusto fare cosa ma mettendoti la storia e cercando a questo mio parere di creare dibattito di questo secondo me è un film politico buono cioè non intervenire a mannaia con il monologone che ti spiega sì che cosa devi pensare che fa barbie diciamo non ho detto nulla io io non mi sono esposto in questo senso secondo me margot robbie ha fatto la peggiore interpretazione del mondo perché margot robbie io la adoro e ho vista in altre occasioni e il vedere il piano sequenza sul ballo di di ryan gosling quando c'è quella famosa canzone e vedere lei invece stile velina con continuamente vedere lei cattata cioè coi cat perché non riusciva a stare al passo con le altre ballerine mi ha fatto veramente male perché non è che si può far tutto sei una dea sei favolosa come attrice sei non sei ballerina sta in produzione ma solo lei poteva fare barbie no non è vero ce ne sono migliaia di donne che potevano fare barbie lei voleva fare la produzione secondo me avrebbe dato quella marcia in più se non si fosse messa all'interno lei era proprio partita con l'idea di poi certo perché lei lo ha prodotto pure quindi si è stato chiesto a forza di fare il ruolo e secondo me uno attento lo vede lo vede poi i premi i premi ovviamente un film che ha destato e questo gli do gran merito anzi una buona cosa ha destato scalpore perché si è messo di traverso cioè ha fatto è riuscito a fare ciò che voleva e gran bene ok poi se tu ci pensi anche gli incassi non è che ha fatto più di un indiana jones però ha speso meno ok cioè ha fatto poi di più però dico già dall'inizio quando è diventato famoso perché ha quadruplicato quello che va speso quindi ha fatto degli incassi record erano gli incassi di indiana jones quando parlavano già record però loro hanno speso come barbie 100 milioni di dollari indiana jones va spesi già 500 milioni quindi voglio dire se tu ne fai 600 milioni hai perso se tu fai 600 milioni avendo speso 100 è questa la cosa che a volte il pubblico non capisce poi si fa il rettire e va verso gli incassi l'essere famoso l'essere fenomeno del momento poi poi grande grande campagna marketing eccezionale perché non ha schifato i social ma anzi ha dato il via a un certo tipo di processo e si è adattato si è modulato e quindi ha vinto quindi io non posso dire niente certo che se tu vedi povere creature ti accorgi di uno spessore completamente differente quello è cinema e alla fine non è che appunto dicono il barbie riuscito qualcuno per ma no nel senso barbie è un pochettino più fanciullesco è giusto che sia così ma povere creature e scusami puoi dire magari ok non lo capisco ok no che palle è un film d'autore o mio dio però poi cioè non puoi non puoi mettere a paragone le due cose non lo puoi fare ok quello è cinema diciamo non è per il per il grande pubblico però no no la casalinga di voghera la casalinga di io voglio coniare un nuovo termine che sarà la casalinga di gussago ok perché gussago è un paese un bellissimo comune in francia di brescia e la casalinga di gussago non non ci arriva ecco cioè magari dopo 20 minuti vede ma che cazzo è piglia se ne va fuori casalinga di gussago casalinga armatevi armatevi e venite non vi dico dove perché sennò poi lo linciate e lo aspettate fuori io mi dissocio dalla casalinga di gussago e quindi tu quindi rispondendo alla domanda il secondo tenno i primi ministri non sono cioè i ministri non sono non sono bravi attori ma guarda caso il politichese ha bisogno del del creare questi scenografie e questi sceneggiature scritte malissimo per appassionare no ok e quindi e ci riesce benissimo cioè riesce a costruire un trash cioè una sceneggiatura che che manco film di serie cioè io penso che shark nido sia sia un una serie siano una serie di film immensi paragonati alla scena alle sceneggiature politiche mondiali e non solo italiane poi noi noi facciamo scuola in questa cosa e non e non è un discorso di patteggiamento politico è assolutamente sono sono uno molto disilluso mi ritrovo molto nelle nella disillusione di citando un grande io non lo sono però di gaber per quanto riguarda la politica sì ok sì sì io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono che è l'immensità è perché vuol dire che tu comunque c'hai questo orgoglio retroattivo che continua a uscire riconosco la grandezza di di questo io vedo anche amici miei non non addetti ai lavori non dentro nel mondo dello spettacolo diciamo del cinema così sono molto inclini a vedere il film americano anche un bo una cazzata come beekeeper il consiglio il film italiano e di base tendono tendono a schifarlo di più e questa cosa per assurdo ha superato anche il confine perché da quando poi gli ho fatto vedere parasite ho costretto i miei amici ad andare a vedere parasite loro dicevano a chi cazzo i coreani ma chi cazzo sono i coreani adesso si guardano tutta anche roba coreana guarda anche qui ti faccio un parallelismo che continuamente mi mi viene in testa ma scusa però i coreani dove prendono la loro radice è un è un continuo passarsi la palla di nazioni secondo me che hanno avuto voglia di sperimentare noi siamo crollati ma il regista di parasite non fa delle citazioni al cinema americano scusa al cinema italiano beh sì utilizza pure una canzone di pensa noi per esempio con sergio leone siamo andati a pescare in giappone ok poi ha rivisto il cinema americano e kurosawa andava a pigliare dagli americani sì 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 assolutamente è tutto un un giro e noi però abbiamo ci siamo staccati ci siamo staccati dal dalla lettura del mondo abbiamo creato dei micro mercati interni per pensando ok e poi ci siamo isolati ci siamo isolati dicendoci a vicenda mettendoci la mano sulla sulla spalla dicendo quanto sei bravo no sei più bravo tu no quanto sei bravo chiudendo il quei mondi creativi ai a poi alla popolazione italiana ai tanti perché è chiaro sei dicendo una cosa forte non credo nei casting perché perché è carne al macello perché tanto poi se tu ma è giusto così è se tu devi fare un film dove devi spendere milioni chiami me che non mi conosci come lavoro se tu pensi in qualsiasi altro lavoro io chiamo chi è sulla cresta dell'onda e quindi preferisco toppare perché tanto toppo meno con un mastandrea che comunque so che magari ventimila persone me le porta che sono pochissime perché anche lì jazz set italiano non è che ti ripaga di chissà di che cosa però almeno sul set sai chi ti stai portando no e si ragiona però in piccolo chiaramente perché si è creata una sorta di secondo me di chiusura chi arriva arriva ma non non pensate al sogno americano ragazzi ma non c'è neanche in america non ne sono gente che all'interno del ed ecco perché io penso che per fare un qualcosa nel cinema quello che posso fare io se riuscirò è creare un dei gruppi ex novo che mostrino che siamo capaci di lavorare quindi poi possono entrare in rete con chi c'è già l'unico modo non credo nei casting assolutamente e anch'io con il film che sto non posso non posso dire nulla però dovrebbe una cosa un progetto molto importante e farò comunque selezione ma io sto selezionando prendendo pareri da amici produttori eccetera dicendo ma com'è quell'attore come quest'altro attore dal punto di vista umano sul set poi questa è perfetta prendiamo 56 per 56 attrici emergenti che mi diano la possibilità di fare questo personaggio principale e quindi prendo i connotati vedo un attimino eccetera e poi guardo sciorrile vedo film oppure mi faccio dire ma dove opera teatro perché magari desfress vado come si dice a brescia però non credo gli attori te lo dico da regista devono essere visti nel loro habitat naturale è come il lavoro guarda quante fregature volevo dire inculate ma dico fregature l'ho detto inculate quanto dire quante fregature un imprenditore lo sanno perché io poi parlo spesso con imprenditori vado a fare public speaking anche in azienda eccetera tutte le volte salta fuori o c'è quello che è bravissimo a fare il colloquio e poi solitamente quello bravo a fare il colloquio ti creerà problemi perché da l'expload nel momento di assunzione dà l'expload sul colloquio ma poi non si rivela quello che è la legge del contrapasso e per me è fondamentale nella vita un attore non lo vedi da quanto da quanto ti dà lì al momento perché uno che riproduce in quel momento una cosa buona ma un regista deve accorgersi da quando entra come si pone come si siede come non dal pezzo che farà ma che cazzo non ne frega tanto poi cosa fai mi porti il monologo a meno che non è su parte e mi porti una particina del cosa mi porti un monologo e io dico oh che bravo a fare questo monologo allora lo prendo ma ma dai e poi poi siete troppo legati adesso ti prendo dentro anche te siete troppo legati non quell'uomo non so se si vede il tarantino non quell'uomo e infatti vince come altri siete troppo legati alla parte estetica ok ma per me l'estetica è la ruga d'espressione l'estetica è minchia ma guarda quello che micro espressioni facciali ha guarda come reagisce e io non ho paura dell'esplosione in camera quando mi dicono i registi di solito che escono dell'accademia dicono no però devi stare fermo e poi vedi alcuni film con grandi che hanno i primi piani che comunque hanno dei movimenti perché perché sono naturali sì sì o comunque replicano un certo tipo di naturalezza beh via conta anche l'apparenza e cioè alla fine perché se cioè io dico jessica chastain cioè è bella una bellissima donna e una bravissima attrice senza quella bellezza lì riusciva a ottenere quel successo o no allora lo stesso con gosling lo stesso brett pitt gosling è uno vedi anche lì tipo la biografia di ryan gosling è uno che secondo me è rappresenta un non è un interprete è uno che interpreta sempre se stesso però lui arriva da una gavetta fatta da a disney channel per esempio lui sin da piccolo e dentro quindi in qualche maniera lì è la parte di abitudine che ti crea poi la possibilità se io vado dalla casalinga di gusago le faccio vedere due fotografie qui c'è michael shannon qui c'è brad pitt e mi dice sì conosco brad pitt però adesso shannon non sa chi cazzo sia il popolino la casalinga di gusago è nota però l'immagine va a vedersi il film perché c'è brad pitt però ad astra il film io metto nel poster ho tutto brad pitt la faccia la sua faccia e perché andavamo a vedere si va a vedere ma perché abbiamo costruito questo mondo allora brad pitt è bravo cioè hai nominato degli attoroni tant'è vero che poi però se li vedi nella vita di tutti i giorni non sono la loro immagine è più bravo shannon dai sì chiaramente sì sì assolutamente però se ho bisogno essendo il cinema molto cattivo se ho bisogno di un biondo con gli occhi azzurri molto bello sul oltre i 50 chiaro vado a prendere brad pitt però attenzione perché siamo abituati a questa cosa ci siamo abituati a una cosa sbagliata perché perché deve vendere ma perché riuscivamo a vendere con deniro con al pacino con jack nicholson jack nicholson ha reinventato il modo di recitare e tutto si deve lì c'è il movimento della della new hollywood diciamo in quel momento lì e perché non possiamo di nuovo distruggere questa cosa ormai stantiac ormai sta andando a picco vi ricordo faccio un faccio un parallelismo perché mi piace supereroi supereroi sono come i western americani uguali colori ma mai sporchi adesso stanno cominciando mettere del sangue perché perché arriva il movimento dei supereroi sporchi the boys arriva deadpool arriva wolverine che impianta dentro gli artigli non sono un po gli spaghetti western eh sì 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 io guarda sono mi mangio tutte le volte le mani perché penso cazzo il momento in cui c'erano fulci leone martino tutti questi registi italiani che sono passati alla storia come appunto spaghetti western macaroni combat euro war c'è tutti questi generi poliziottesco però se vai a vedere milano calibro 9 vedi quelle storie lì poi te lo rifanno adesso gli americani poi ti fanno loro adesso uncut gems ti fanno loro quei film lì fermati però non abbiamo ho appena fatto un parallelismo storico e se la storia è un continuo riciclo di quello che succede siamo in un punto tale la disney lo dimostra c'è tutte le major americane lo dimostrano che barbie barbie è un'eccezione cioè stanno bruciando miliardi di dollari milioni bilioni ok quindi siamo giunti in un momento dove con meno soldi puoi nuovamente arrivare ad un dove dove sta il la qualità nell'idea ok quindi a mio parere è questo il momento di non non serve anzi il lo strato che c'è romano in questo caso do meriti e demeriti ma roma deve capire di delocalizzare questo è sempre stato un mio parere però se c'è qualcuno magari ti viene in mente prende l'idea va benissimo l'importante non sono io è che il bimbo bresciano di oggi o la bimba bresciana di oggi con talento possono vedere un futuro un po più roseo all'interno di questa di questa industria ok si spera se rendono veramente l'italia in grado di produrre cinema in modo indistinto sempre con roma caputmundi quindi con il punto nevralgico a roma perché va bene così perché così almeno si gestiscono determinate cose meglio non essere dispersivi però c'è l'opportunità a mio parere di riprendere certo devi puntare su artisti però devi è anche vero che se punti su artisti emergenti puoi farne dieci di film invece di fare un film che ormai non ha più senso perché dai il film al regista affermato che non ha più fame la fame è una cosa vedi spilberg di prima la fame la voglia la passione è una cosa che conta tantissimo ecco perché spilberg è bravo perché quando sei lì tu devi fare quello che dicevo dei metodi attoriali vale per tutto tu devi farti tutta una mappatura ma poi ti devi modulare lì al momento purtroppo siamo in un mondo che vuole che non è imprenditoriale l'imprenditore ho fatto ragioneria posso dirlo l'imprenditore è qualcuno che non deve rischiare tutto non deve fare lo lean è però il rischio di impresa ci deve essere quindi questa è una domanda che ecco ci tengo a fare un po un ti il tuo qual è il tuo film preferito ne ho uno ne ho uno e unico perché poi tutto deriva da quello se pensi appunto nominato kojima o nominato determinate persone personaggi che hanno a che fare con il limite della sospensione dell'incredulità ok e perché io penso che il cinema non debba andare a compatti con la sospensione dell'incredulità o meglio chiaramente è una regola ma che deve darsi la sceneggiatura ok guarda caso tutti quelli che spesso mi citano poi vedono vedono la marvel che continua a distruggere la sospensione dell'incredulità all'interno del loro mondo è fatto di pirla in calzamaglia extra muscolosi e bocce strizzate ok no per dire cosa per dire che sospensione dell'incredulità non credo a questa cosa ma soprattutto appoggio tutti quegli artisti che creano questi mondi particolarmente con poco fellini fellini otto e mezzo otto e mezzo che poi è una dichiarazione d'amore a all'umanità perché in realtà io ai creativi ma non solo chiunque un creativo no e chiunque ha dei momenti dove tutti lo pressano dove deve sempre dimostrare agli altri qualche cosa mentre io dico sempre mostriamo ciò che siamo in quel dato momento non possiamo non possiamo dimostrare vuol dire che ci mettiamo al di sotto di qualcuno noi invece siamo alla pari mostriamo ciò che abbiamo acquisito fino a quel momento poi chiaramente noi dobbiamo migliorare quindi se tu ci vieni dopo due settimane a chiamare può darsi che ti diamo qualche cosa di meglio oppure involviamo però questo per dire cosa per dire che amo fellini alla follia poi vabbè chiaramente citavamo prima mastroianni per me per me non è un non è un interprete quindi non è un attore to cure fa se stesso abbiamo citato per esempio ryan ryan gosling abbiamo citato ecco tranne forse in due pellicole però tanti hanno detto poi era era anche proprio una brava persona quindi questa anche una cosa strana perché abbiamo quest'idea che poi l'attore poi un pezzo di merda nella vita vera e anche il regista no no piccolo aneddoto sì piccolo aneddoto per esempio che mi era mi hanno raccontato insomma chi conosco all'interno dell'ambiente romano aiutava sul set quindi se c'era magari a modi boris la truccatrice che non era stata pagata così lui magari andava ci metteva faceva il finto tonto faceva due battute diciamo ma c'è questa mia amica che magari non conosceva però questa mia amica che non ha ricevuto ancora il compenso come mai allora loro hanno scusa marcello è che siamo indietro ma portiamo e lei veniva poi regolarmente pagata cioè quindi ci sono delle storie molto belle dietro ad alcuni che invece vedi lui passava per latin lover e guarda che ha sempre la legge del contrapasso state attenti perché l'immagine solitamente quello che si vuole dare quando uno ha un'immagine negativa chiedetevi il perché o non controlla l'immagine non gliene frega nulla caso probabilmente di mastroianni oppure è candido se è candido cominciate ad aver paura perché perché deve ripulire l'immagine quando invecchiato ha fatto delle cose veramente molto interessanti dal punto di vista di interpretazione però mastroianni è sempre se stesso e non si capisce perché abbia lavorato con fellini che chi ha studiato sa che fellini era veramente un uno molto rigido dovevi fare quello che lui vedeva nei sogni quindi se tu muovevi un sopracciglio in modo sutherland lo ha volte lo ha detto più volte nelle interviste che ha odiato lavorare con fellini perché lo ha portato all'esasperazione no e guarda a caso lavora con chi il suo compagno d'avventura con mastroianni cioè la persona meno mi raccontava questo amico che ha fatto ha fatto l'aiuto regista ettore scola che era uno spasso vedere jack lemon era la perfezione la scienza riproduceva ogni singolo singolo movimento ogni singola battuta ogni singolo uguale identico l'uno all'altro a volte i bambini mi chiedono ma come fai a fare sempre stesse cose no non le faccio non sono di quel tipo di di attore però invece ci sono quegli attori che riescono a replicare al centesimo e ti fanno la scena uguale sempre lo stesso modo ci sono ci sono scuola americana soprattutto perché lì devono essere performanti e poi invece c'era mastroianni che arrivava marcellino pronto sì sì così si metteva lì ed era un professionista incredibile però e lo era in modo differente un artista che creava al momento no quello che adesso è famoso molto è molto famoso robert downy junior nel fare quelle cose no anzi poi la leggenda vuole che ma in realtà poi sono professionisti e praticamente questo inizia danno l'azione tutti pronti sai poi che l'adrenalina che c'è sul set questo guarda in camera a un certo punto c'è si sposta guarda in camera non mi ricordo la prima battuta stop momento poi si accendono gli occhi questo mi dicevano che aveva questa cosa si accendevano gli occhi e ti asfaltava ti asfaltava perché ti creava quelle lasciando perdere otto e mezzo che è ridoppiato no all'epoca e quindi però chi era sul set sapeva che ti ricreava quella sorta di veridicità che che poi sfrutteranno molto gli americani che che porterà come dicevamo prima jack nicholson con la new hollywood ricordiamo che gli americani nel mentre noi con anna magnani facevamo quella corsa in roma città aperta gli americani facevano i via col vento con domani è un altro giorno facevano queste robe ecco e poi parliamo della verità che dobbiamo trovare la verità ma baffanculo e adesso lo fanno quegli supereroi così quindi per l'amor del cielo mi hai chiesto all'epoca il una una sorta di monologo una sorta ecco non siamo come come quando andiamo al bar e vediamo il nostro comico e gli facciamo la faccia fare una risata troppo forte no non è così ovviamente questo scazzato ci è stessa cosa ti dico che se mai posso magari fare una lettura un qualche cosa di più lieve tranquillo che vai vai solo per uno delle mie opere teatrali preferite con un sacco di trasposizioni si erano dei bergerac un bacio dopo tutto cos'è un giuramento fatto un po più da vicino una promessa più precisa il si ad un assenso un punto rosa sulla e di amor mio un segreto confidato alla bocca invece che all'orecchio un istante d'infinito che fa il ronzio d'ape una comunione che ha il gusto del fiore un modo per respirarsi un poco il cuore e un po gustarsi a fior di labbra l'anima è una lettura ovviamente e anche queste parti devono cioè il corpo il corpo aiuta molto la cosa però ho fatto più un lavoro di mestiere ovviamente chiaro però questo è un po è un po quello che dicevo stiamo attenti nel valutare gli attori non nel loro habitat naturale io dico che l'habitat naturale per valutare un attore se proprio vogliamo fare dei casting e metterli su un palco di un teatro e il palco è come una bocca dico sempre che nel momento in cui tu sei arrogante o non hai fatto bene il tuo lavoro si chiude e ti tritura mentre invece se la scatola questa bocca capisce che sei un innamorato hai passione eccetera allora ti coccola anche se tu pensi di oh mio dio entri un po tutto tutto in punta di piedi e un regista bravo deve essere deve fare quello. Nulla dai ti chiedo hai già detto qualcosa prima se hai qualche progetto futuro qualche cosa di interessante in questo prima se no finiamo e non ho mai bevuto e lui giustamente lui beve alla fine ecco ok faccio vedere che comunque mi ha offerto l'acqua sono io che poi non è preso dalla foga guarda questi momenti interminabili smr vedete abbiamo anche tolto l'etichetta così ho progetti futuri sono tanti devono essere sempre tanti sono tanti ok perché se uno su cento riesce sai che è benissimo che questo settore è dato da da una possibilità su cento e sono positivo devono essere tanti devi continuamente sapere che è lì che riconosci la verità del fallimento è quello che ti porterà il fallimento è quello che ti porterà perché tu costantemente sei nel fallimento di un progetto di un'opera di un personaggio che volevi fare ma non riesci a e quello la vera non è il fatto che tu durante la vita apri un'azienda poi un'altra poi un'altra ancora e poi finalmente no è proprio che tutti i giorni c'è un fallimento anche in un'opera che poi in un progetto che poi va bene tutti i giorni è costantemente lì per non per non andare sì sì sono tanti progetti però e c'è uno particolarmente grande che sto a una fatica bestiale cioè tutte le volte con quel poco di tempo tra un tra un lavoro e l'altro tra sono in collegamento telefonico con determinate persone di quel progetto faccio lì in bocca al lupo per per tutto i progetti e c'era l'occasione anche di un'altra una parte due ecco perché abbiamo abbiamo affrontato tante qua mi ero fatto una scaletta cioè come vedete se vi è piaciuta questa puntata e like iscrivetevi e nicola grazie del tempo che ci hai dedicato volete appunto contattare nicola per per ogni cosa lui a instagram si bracchi nicola tra l'altro ecco devo mettermi a posto per quanto riguarda la parte social purtroppo ci si deve fare in più dico mettete anche dislike se non vi sono piaciuto perché tanto va tutto in saccoccia anzi vengono con le che vengono conteggiati ugualmente sia like che dislike qui fai o tu phoenix sì che sì